Ciao a tutti, benvenuti al nostro canale Zampe Amiche. Oggi parleremo dello Spitz giapponese, una razza di cane davvero unica. Oggi parleremo dello Spitz giapponese. Se siete curiosi di conoscere la storia, le caratteristiche fisiche, il temperamento e come prendersi cura di questa affascinante razza, continuate a guardare. Storia e origine. Originariamente, questa razza è stata sviluppata in Giappone negli anni 20 e 30 del XX secolo. Si ritiene che il Japanese Spitz derivi da vari Spitz europei che furono importati in Giappone. Questi cani furono allevati per ottenere un cane di piccola taglia, con un mantello bianco e soffice e un carattere affettuoso. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Japanese Spitz guadagnò popolarità come cane da compagnia per le famiglie giapponesi, grazie alla sua natura dolce e alla facilità di cura. Da allora, la razza ha continuato a guadagnare apprezzamento a livello internazionale. Caratteristiche fisiche. I cani di razza Spitz giapponese sono facilmente riconoscibili grazie al loro mantello bianco puro e soffice, che è una delle caratteristiche più distintive della razza. Sono cani di piccola taglia, con un'altezza che varia tra i 30 e i 38 cm algarrese e un peso che oscilla tra i 5 e i 10 kg. Hanno una testa a forma di cuneo con occhi a mandorla, scuri e vivaci, che conferiscono loro un'espressione dolce e intelligente. Le orecchie sono piccole, triangolari e erette, mentre la coda è ricoperta di pelo lungo e portata arrotolata sul dorso. Il loro mantello è doppio, con un sottopelo denso e un pelo di copertura lungo e dritto, che dona loro un aspetto soffice e voluminoso. Temperamento e comportamento Sono cani molto socievoli e si legano strettamente ai loro proprietari, rendendoli ottimi cani da compagnia. Sono anche cani molto vivaci e giocosi, sempre pronti a divertirsi con la loro famiglia. Questa razza è nota per essere particolarmente intelligente e facile da addestrare, il che la rende adatta anche a proprietari alle prime armi. I Japanese Spitz sono generalmente buoni con i bambini e possono convivere bene con altri animali domestici, purché siano stati socializzati correttamente fin da cuccioli. Sono anche cani vigili e attenti, che abbaiano per avvisare i loro proprietari di qualsiasi cosa insolita, pur non essendo eccessivamente rumorosi. Cura e salute Prendersi cura di un Japanese Spitz richiede attenzione e dedizione, soprattutto per quanto riguarda la toilettatura. Il loro mantello bianco e soffice necessita di spazzolature regolari, idealmente ogni giorno, per mantenere il pelo in ordine e privo di nodi. Per quanto riguarda l'alimentazione, è importante fornire loro una dieta bilanciata e adatta alla loro taglia e livello di attività. I Japanese Spitz richiedono esercizio quotidiano, che può essere soddisfatto con passeggiate e sessioni di gioco. Per quanto riguarda la salute, questa razza è generalmente sana, ma può essere soggetta a problemi dentali e lussazione della rotula. È importante effettuare regolari visite veterinari e per monitorare la loro salute e prevenire eventuali problemi. 5 Curiosità sul Japanese Spitz 1. La razza è stata ufficialmente riconosciuta dalla Japan Kennel Club nel 1948, consolidando il loro status come razza distintiva. 2. Nonostante il loro aspetto lussuoso, il mantello dei Japanese Spitz è sorprendentemente facile da mantenere pulito e tende a respingere lo sporco. 3. Sono noti per il loro sorriso distintivo, che è un segno della loro natura gioiosa e amichevole. 4. I Japanese Spitz sono ottimi cani da guardia, sempre attenti e pronti a proteggere la loro famiglia, ma senza essere aggressivi. 5. Questa razza è molto adattabile e può vivere bene sia in appartamenti che in case con giardino, purché ricevano l'attenzione e l'esercizio di cui hanno bisogno. Quindi, se stai cercando un cane che sia affettuoso, vivace e dall'aspetto regale, allora un Japanese Spitz potrebbe essere la scelta giusta per te. La loro storia affascinante, le caratteristiche fisiche distintive e il loro temperamento amorevole li rendono compagni eccellenti per famiglie e individui di tutte le età. Iscriviti al nostro canale Zampe Amiche per ulteriori guide e consigli sui cani, e considera di sostenere il nostro canale con una piccola donazione attraverso il pulsante Super Grazie, lo troverai a destra, sotto il video, con un simbolo che contiene un cuore con dentro un dollaro affiancato da un grazie. Ti ringraziamo per aiutarci a condividere informazioni preziose sui cani. Assicurati di guardare il prossimo video raccomandato nella schermata finale.